comincia con una vittoria importantissima il nostro europeo signori importantissima uno per la qualità del gioco espresso due per la personalità con il quale abbiamo ribaltato la gara e non era semplice perché abbiamo reagito ed eccolo il terzo aggettivo reazione personalità reazione e qualità tantissima in tutti gli undici scesi in campo questa è una nazionale ragazzi che non va bistrattata non gli va sputata puntini 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 addosso perché non saremo i migliori e questo è fuori discussione ma non siamo neanche gli ultimi arrivati e soprattutto siamo i campioni d'europa in carica e questo ce lo dobbiamo sempre ricordare e soprattutto siamo l'italia nessuno è contento di giocare contro di noi nessuno 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 e nessuno perché dico questo dico questo perché comunque l'italia è una squadra che dimostra sempre di potersela giocare non possiamo sicuramente voler essere quelli di tre anni fa quelli del 2006 no questo non lo diciamo e può essere messo e non può essere messo in discussione però ce la giochiamo abbiamo un grande allenatore abbiamo tanti giovani che hanno voglia e abbiamo un gioco con degli interpreti adatti a questo tipo di gioco e questo ci fa capire tante scelte anche la formazione di questa sera ci fa capire tante scelte non è stato 433 non è stato 352 è stato 4231 vedi alla fine no il vecchio spalletti torna in campo nel momento del bisogno ha sempre giocato con questo modulo e ha fatto grandi cose con il 4231 e questa sera l'ha messo in campo in maniera splendida splendida giorginio pellegrini frattesi hanno funzionato e soprattutto ragazzi nicolò barella e hanno giocato bene tutti ragazzi fondamentalmente mi è piaciuto scamacca come si è mosso la voglia di chiesa che ha di spaccare il mondo e forse andava servito di più perché nell'uno contro uno poteva fare di più la differenza e però devo dire sono molto soddisfatto non abbiamo fatto secondo me non abbiamo avuto un buon approccio ma c'è stato un errore di marco che poteva condizionarne la gara e la partita ma di marco che gioca in una squadra che è abituata a vincere è abituata a giocare a calcio è abituata a non arrendersi mai è abituata a fare della qualità virtù e soprattutto principio cardine no del del proprio gioco è riuscito a far finta che non fosse successo nulla a giocare come il dimash dell'inter cioè ragazzi perché questa sera di marco ha fatto una gran partita però il migliore in campo ragazzi barella ha fatto un gol mamma mia che gol che ha fatto nicolò barella questa sera bellissimo 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 se voi ci fate caso quando parte il tiro lui già è pronta ad esultare e questa è una cosa fantastica perché sapeva che sarebbe andato proprio lì bello 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 e soprattutto mi è piaciuto anche come no frattesi scamacca chiesa da quel lato no ma anche lo stesso pellegrini come hanno cercato di giocare la partita cioè di affrontare questo tipo di partita perché si sono inseriti si sono alternati e poi abbiamo giocato bene le palle inattive altra specialità della casa perché sono provate in un certo modo il gol di bastoni arriva da una da un'azione combinata e provata e riprovata perché poi nel secondo tempo lo fa di lorenzo che stava per servire scamacca e quindi è un qualcosa che funziona un qualcosa in cui dobbiamo lavorare devo dire che sono molto contento di quello che ho visto questa sera non non mi aspettavo di più non mi aspettavo di meno contro un'albania che ragazzi non è sicuramente la squadra più forte ma che comunque una squadra che può mettere in difficoltà perché è ignorante arrogante nel senso che è una di quelle squadre vedi vai subito sotto per un errore se non fai subito l'uno a uno quella partita si compromette perché poi loro si sono messi dietro la linea del pallone hanno fatto la loro partita avevano forza fisica per ripartire ma siamo stati bravi ad andare in anticipo siamo stati bravi a lavorare con le preventive e questa vittoria risponde un po' a quello che è successo oggi pomeriggio tra spagna e croazia una spagna veramente molto molto forte secondo me anche qui la spagna non parte con i favori del pronostico ma attenzione a questa spagna perché ragazzi gioca un gran calcio gioca molto bene e ha un mix come la germania di giovanissimi talenti vedi jamal e non solo perché dall'altra parte gioca nico williams titolare nella spagna e molta esperienza morata nacio rodri quindi è una squadra ben assortita ben costruita forse noi dalla nostra non abbiamo tutta quell'esperienza che hanno gli altri però questo può essere anche no un pizzico a favore nostro perché può darci quella spensieratezza no quella sfacciataggine che serve in queste competizioni coraggio un po' di fortuna e sicuramente poi la capacità di giocare e vincere le partite e io penso che quello piano piano poi poi arriverà sono contento c'è stato anche l'esordio per fornuscio che appena entrato ha vinto una seconda palla e si è preso fallo no quello è un giocatore intelligente calcisticamente che ci può dare mano in una competizione del genere bene calafiori anche se su quel lancio di aslani ha rischiato molto lì donnarumma fa un grande intervento su manai nell'ultimi minuti perché lì poteva essere un gol che ti spezzava le gambe perché insomma non avremmo meritato di pareggiare questa partita abbiamo ampiamente meritato di vincere abbiamo giocato una gara giusta nel senso con il giusto atteggiamento anche se c'è stato quell'errore iniziale che poteva poteva farci farci del male poteva farci tanto del male perché poi se non recuperi ripeto se non pareggi con quella palla inattiva diventa difficile anche se comunque credo che la vittoria sia giusta e nello sviluppo della partita si sarebbe comunque arrivati ad una vittoria però sono errori da non rifare con squadre esperte come ad esempio la croazia come la spagna che ti verranno a pressare un pochino di più forse più la spagna che la croazia e quindi puoi andare più in difficoltà se noi avremo la personalità di giocare contro la spagna il 20 la palla così alzando il ritmo cercando di più gli uno contro uno ad esempio di chiesa allora possiamo far male anche alla spagna se subiamo il pressing e non recuperiamo palla possiamo andare in difficoltà perché questa squadra difesa schierata può avere difficoltà perché comunque calafiore è un difensore centrale in uno schieramento a tre anche se ha giocato con il bologna a quattro però è forte ma bisogna vedere se è attaccato costantemente bastoni abituati a una difesa a tre ma ha fatto molto bene anche questa sera di marca un esterno tutta fascia quindi se messi alle strette negli uno contro uno potremmo avere difficoltà però se giochiamo alti se riusciamo ad alzare il ritmo se riusciamo a scavalcare il loro pressing allora possiamo fare qualcosa di straordinario possiamo essere protagonisti nel nostro girone siamo secondo me nettamente più forti della croazia e questo ci deve far ben sperare perché dobbiamo comunque cercare di arrivare i primi questo sicuro la seconda del nostro girone giocherà contro la seconda del girone della germania che non mi sembra un girone irresistibile però c'è l'insidia svizzera che oggi ha preso a pallonate lungherie ragazzi gli ha vinto meritatamente la sua la sua partita 3 a 1 e quindi bisogna essere ben centrati nell'obiettivo cioè dobbiamo cercare di arrivare i primi con le unghie e con i denti magari vincendo con la spagna che sarà una partita difficile però non dobbiamo arrivare all'ultima partita contro la croazia a doversi giocare tutto per tutto questa è una vittoria importante che deve dare fiducia che ci deve far capire che il percorso è quello giusto che l'italia ha iniziato un nuovo percorso con spalletti che ci deve preparare al mondiale in cui ci dobbiamo qualificare e che ci deve portare più lontano possibile perché bisogna arrivare ai quarti perché poi dai quarti poi può succedere di tutto non eravamo favoriti nel 2021 che era era 2020 ma ovviamente per il covid si è spostato di un anno non siamo i favoriti in questo europeo ma possiamo essere una grande outsider una grande spina nel fianco come al solito perché siamo l'italia siamo una squadra tosta abbiamo i talenti dobbiamo tirarli fuori e quindi complimenti a spalletti complimenti all'inizio di questi di questi azzurri che adesso si devono riposare e devono essere pronti ad una grande battaglia ad una grande partita contro la spagna di della fuente sarà grande partita ragazzi grande 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 partita e poi ovviamente la commenteremo insieme detto ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la campagna e condividete il video viviamoci questo europeo e il mercato di quest'estate per poi riportarci alla serie a con grande entusiasmo con grande passione e tutti insieme dal vostro andrea un grande abbraccio forza italia forza azzurri andiamo così andiamo così ci vediamo domani